Ciao a tutti dal vostro vuttolomeo, il mei umbriacone e il colosseo e bentornati a questo video di The Gamer Sanctiped e volevo un attimo parlare con sta vecchia adorabile vecchietta, vogliamo una vecchietta My name is Quan, salve signora Quan, va bene signora Quan E come tasa è giocata? A carte? Partita a briscola con carte truccate dentro alla manica? Quindi era la tua? Almeno così credevo Azzo, decreto imperiale, parliamo di cose importanti qua La famiglia era proprietaria di sto terreno da centinaia di anni, terra appartiene a lui Minghe, minghe e straminghe So cose molto importanti signora Gentile? Ma ti sfrutta, lui non fa un cazzo, lui sta all'ambriacassi E tu, tu ti fai un culo tanto e lui si ubriaca È stato gentilissimo Venuto col decreto E non lo potevi mandare più all'appia, signora? Ma non ci hai mai pensato che fu? Eh, signora, ce n'è di gente stronza e malvagia al mondo, purtroppo Ce n'è anche troppa, signora E non ci parlo io Contestare, signora, se c'è bisogno veniamo pure all'imperatore Non andiamo tanto per le spicce, mia cara Allora fa massaggio a sto tè, vediamo se è buono Anche se preferirei una birretta, però Yann Roo, il locandiere Dobbiamo menare questo tipo là, Dutong, come si chiama? Vabbè, dai, è un bel mestiere Eh, vabbè, sono problemi Quando manca l'istruzione Sei facilmente raggirabile, mio caro amico Vuoi dire che non era vero? Eh, beh L'istruzione è che Dutong ha già mostrato a tutti il rito e ora ha lo scoperto Se sei certo, non lo prende mai Vabbè, gli meniamo, dai Andiamo là, quattro schiaffi, due calci in culo Allora, sempre Vabbè, ma che uomo è, beve il vino annacquato, ma perché non si vergogna? Che schifoso Tre fasi di sboglio Eh, diventa molto cordiale, tipo Sette boccali in depressione Beh, decisamente brutto, sì, da vedere Molto brutto Eh, nel caso con il giaffamacello, immagino Bisogna procurare assisto tonico Potrebbe essere utile Soprattutto quando incontri gli sbirri In sabato sera Guarda, diabo Dagli quello forte Eccoci su ubriaca Confessero Ma andiamo a farlo Dagli l'imperiale Andiamoci a parlare Andiamo a vedere con questo stroppo Dutong says he hired me because I'm big as This tea house has gone downhill ever since three sheets Dutong took over Greetings and salutations Welcome to Master Dutong Coscia, stai proprio ubriaco l'ercio, amico The Rit Why waste time on such a dry and boring subject Put the Rit out of your mind and join the party Allora, gli ho dato 3 e 2 5 Quindi se ne beve in altri 3 va 8 e 2 Dagli quello stroppo Un drink for Master Dutong, coming up Anything else I can do for you? Minchia Aspetta Andiamoci a parlare che sto ubriaco l'ercio questo Non si legge in piedi What do you want? Come to mock me? Come to laugh at the tragedy that is the life of three sheets Dutong? Ubriacone del cazzo No, not the Rit Let's not talk about that Che greta Che siero E' proprio ubriachissimo sto tizio Vabbè amico ma se non reggi il vino Amico se non reggi il vino bevi l'acqua che voglio Troppo Se non lo so E' un uomo Un male O un uomo Un uomo Ho fatto tutto Buzz Che ti dico? Se mi piacerebbe E' proprio soprenato встречo Oh 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 il capo storico che schifo un pomido cotto al forno in una gelatina di peri di capra guarnita come una sprezzata di sterco di cavallo il colmo dello schifo eh si te la sei cantata te la sei cantata come un uccellino veniamogli ah no scegliamo la via del bene cioè sta gente deve capire che no no mi fa veramente schifo uno che pensa di poter comprare tutto con il denaro mi fa schifo quindi basta botte botte paura delle botte ora degli schiaffoni abbiamo fatto una buona azione fantastico abbiamo fatto una buona azione maestro di furti maestro di furti du tong sicura sicura me possino ciecamme e adotti così è reddito l'attività ma che beve un po' di te ma che beve un po' di te perché prima non era rispettabile perché prima non era rispettabile vabbè a parte che ci ma dammi un po' di soldi the only reward i can offer is my humble thanks soldi 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 dammi soldi dammi soldi 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 dammi soldi e mi soldi oh c'ho l'aureola mamma pare che sono santo tanto carica tanto carica ah ci abbiamo un aumento di livello non ho abbastanza punti stile che balle è allora vediamo un attimo le quest trovo uno scapolo in città esplora le rovine parla con il ministro shag attenzione al secondo giocatore ha trovato il tre pergamone lo stile della vipera si ha stile si ha avuto il pugno di ferro prima di essere separate ricerca del palmo di ferro ah ne ha trovato una e qua anche una quindi dovremmo trovare le altre ma chissà dove stanno vabbè facciamo il nostro dovere questo chi è? un contadino vabbè non serve amico ho capito sei uno dei tanti NPC inutili caprone capra capra fascista capra sto tizio sarà già sposato anche perchè dobbiamo trovare un marito a quella a quella malefica alla versione femminile di vanister Ritty chi è sto tizio? chi è sto tizio? chi sei? vecchio Wei vecchio Chan io sono vecchio lui è antico più vecchio di me di almeno una settimana minchie parlami dell'alluvione 18 anni fa ma io sono ciovane forse non ero neanche nata 18 anni fa e inizia a costruirlo vicino noi non eravamo ingegneri e quindi non eravamo che significa alcuni sbagliarono che ci sbagliare la maggior parte eravamo non preoccupati dopo tutto se c'eravamo l'Empere ci sbagliarono che è successo? il grande dam è finito e i luci si è successo bombare me lo immaginavo chissà perché abbiamo raccolto ciò che potevamo e siamo fuggiti insomma tutti chiamavano qualcuno un po' vedete che siete schiattati quaci tutti ho detto bene non è che ti chiami frosinone sei un po' frosinone culone il grande dam ha creatato un'enormous lake e abbiamo sbagliato la nuova la nuova la nuova la nuova la nuova la nuova la vita è successo no è semplicemente che all'imperatore non mi importa un fico secco di un piccolo villaggetto di montagna eh il potere eh il potere è stato il fantasma formaggino ne so sicuro sono il fantasma formaggino vieni qua che ti spalmo sul paneno no under water 15 and now they're back i don't know what made the great dam io sono il fantasma dalle sette mutande e presta per un po' ora che mi ci fatto cagadosso oh we don't know how we are simple people in the great dam ah beh come ho detto prima la mancanza di istruzione che vi frega cari porti mix construction no thank you for listening youngster hm not many do anymore forse perchè parli troppo amico oh barili potrebbe starci della roba dentro buono gemma dell'aura del male grande aura di male cattiferia no chi è sto tizio eh tanti ampi sinutili ah i see the glint of intelligence nobility wisdom consideration and piety in your eye a fine day to you what can i sell you sembra charlie shin è vero somiglia a charlie shin vedete tante cose well i make my living by knowing people i can clearly see that you are of the finest sort that is to say the sort with silver ready ma che bravi charlie shin cinese credo mi servono le mappe dei venti vabbè a me servono quelle quindi o c'hai quelle o ti attacchi recently the windmaps have disappeared i know that when the emperor's men left tian's landing they took all the windmaps with them a raffoni ingordi no no feh non importa sta ceppa adesso devi dirmi tutto credici amico credici credici sono da questo volars but i don't have any nordworld anyone but we are a parto i have a club so warm it's like a weapon against the cold i have scrubber so good it please magic amico stai dicendo un sacco di stronti just figure that out completely on who wouldn't want a basket so molto bene il valore affettivo capisco i fantasmi non sono facili da affrontare i fantasmi non sono facili da affrontare sono in corpore in pratica devo andare a menare dei fantasmi educatissimo delicatissimo ah quindi vabbè ha un ministero fasullo di quelli senza portavoglio ministero dell'armonia ma va ma questo pimpio di acqua vive dal giro creato da grande dam ma grande dam è aperto e il giro è seco la stessa stagione contro mia supervivenza non ho una scuola se molto bene hai convinto me a parlare è pericoloso dire qualcosa ma sono un ragazzo ma l'inquisizione potrebbe farti sparire mai mettersi contro l'inquisizione spagnola mai adio i settimane fa mi ha chiesto mi sa che ci sta un sacco di gente da menare i miei rovini ho questa sensazione beh sì forse sì sono più pericolosi degli assassini dei fantasmi beh logico i fantasmi non esistono se mi dai la chiave ci vado io non posso o nemmeno chiedere qualcuno per fare questo se la grande dam si chiama le ruine si chiama le varie assassini e le scuole si chiama si chiama non è più comodo ammazzarli così ma se si chiama lo trova la città potrebbe essere salvata e il problema risultato e poi la trovo io la burguesia la vostra La nostra borghesia capitalista sarà estirpata dalla nostra rivoluzione proletaria cinese. Maledetti! Ah, a posto. Vi pigliamo a schiaffi, da... Eh, attenzione, potrei anche uccidere loro, eh. Tres giorni ago, che si era going to close the great dam, ma prima stop at the tea house for a bowl of wine, e ti sei affidata all'alcolizzato, eh, colpa d'ora. E invece te la sei presa dove non batte il sole. Ah, ah. Eh, eh. Eh, sono rivolati, sono volati via. Un marinaio sulla terraferma, non ce lo tieni facilmente, amico. Ah, sì, almeno così si levano dalle scatole e si marinai. Anche spocchioso l'amico. Bene. E' più simpatico di te, quel vecchio. Mi sa che lo sciocco sei tuo, amico. Vabbè, addio. Sì, sì, vai e lasciare il ministro Sheng solo per ponderare i problemi. Ora, vai e chiama la grande dam, e io non ho mai detto. Abbiamo risolto forse un problema, forse. Questo è quello che era scappato, il tizio. Scendiamo giù. Chi sei tu? Chi è sto tizio? Pure sfregiato, c'è una cicatrice. Non mi fido. Eh, che ti serve? Che devi fare? Eh, ora se la spendono benedetto. E allora? Non hai problemi. Non hai problemi. Sì, ma così questa città morirà. Potrei fregarmene perché non è la mia città, ma questi tizi di così ricastri spocchiosi non mi piacciono. Ma non mi piacciono. Quindi, se non mi piacciono, l'euro che ci sono andati. Ma, allora non mi piacciono, l'euro che ci sono andati. Quindi, come si tratta di una città. Come si tratta di una città. L'euro che ci sono andati. Noi, ci sono andati. ma non li voglio distruggere i comandi della tiga per lo meno io poi chi giocherà dopo di me deciderà però non ho nessunissima intenzione di farlo allora torniamo un attimo alle quest foresta malata parlare con tong maestri allora tong 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 credo che stia da questa parte no si parliamo con sto tong 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 con omatopee varie ma ho la chiave ma ci si arriva in qualche altro modo lì si ci si arriva ci si arriva ma ci si arriva ma sta su vabbè ma l'importante è arrivarci eeeh sul carretto mi sa che questi non ci hanno voglia di fare niente ma non dovremmo ascoltare a te ing tu sei un capitano senza un barco non c'è niente ma una casa che non c'è niente ma non c'è niente ma una casa che non c'è niente ma non c'è niente ma non c'è niente ma non c'è niente c'è niente e te abbiamo avuto enough of you in your orders now get back in that ship I'm your captain understand you're still the captain for now but if you don't get us out of this town soon you're going to have a mutiny on your hands then we'll see what's what ho visto la cazzin però or li and a fa quella di tong C'è un mercante Sti cazzi Come mai? Ma le spaccate sui pubbli le fai? Cattivissima questa Certo che mi interessa Sento puzza di battuta sessista Sì ma il seno è Qualcosa È una bellezza per l'umanità Dai L'equilibrio della natura Aumenta concentrazione e ki Anche un po' di eleganza del falco No fa scendere l'energia Fa scendere il ki Però questo Ok Dov'è Tong? Questo chi cavolo è? Sei cieli l'erudito Non mi interessa Parliamo con Parliamo con Sì Sì Poi la sbornia passa E l'ignoranza resta Non è senso Non è divertente Sì Esserei trappolati In questo No Pozzate Ahè posso mandarti via da questa città A calcire il culo Se vuoi eh Figurini? Eh, ridagli l'ambe coglione. Eh, infatti. Oddio, quanto è tenero, gli manca la maaaammaa. No, non sto piangendo, mi è solo entrata una bruschetta nell'occhio. Servi della gleba planetaria, schiavi della ghiandola mammaria. Eh... Che d'hova? Che c'è di sbagliato? Ma che vuole questo da me? Sentiero del pugno chiuso, in faccia dirò darei il pugno chiuso. Andiamo a ridare la statuetta a quello, poi... Chiudiamo la mia sessione così. E niente, quindi io, sti due video, ho fatto solo missioni secondarie. Vabbè, un po' sono andato avanti nella storia, dai. Cioè, mi sono fatto dare la chiave delle rovine. Vabbè, il gioco Hin e Wan. Hin e Yuan. Pronuncia del cinese, pessima. Vabbè, il giorno in cui dovrò andare in Cina, credo che imparerò. Il ministro dell'armonia. Il ministro dell'armonia. Il ministro inutile proprio. Il ministro inutile proprio. Il ministro inutile proprio. Praticamente, è il ministero in cui Italia. Che schifo. Vabbè, chi ne paga le tasse, se la gente sta a morire fame? Infestate. Non ho paura degli spiriti, me li bevo. Spiriti, alcol, da te. Eh certo, ci saranno dei comandi, no? Ci sarà un aggeggio con dei comandi per chiuderla. Il ministro Shang non capisce nemmeno quanto è stupido, quindi... Ora vado, ciao ciao! E con questo vi saluto che ho fatto il mio... E ci vediamo al prossimo video, anzi vedrete chi ci sarà dopo di me al prossimo video. E comunque la protagonista è proprio Gnocca. Mi saluto proprio nella piena idiozia proprio. Ciao ciao! Ciao! Ciao!